Il sindaco di Berceto, Luigi Lucchi, ha il piacere di invitare la popolazione lunedì 21 maggio 2012 alle ore 17 a Berceto per due importanti momenti che vogliono essere un contributo al rilancio della produzione e vendita di prodotti Alle ore 17 in piazza San Giovanni Bosco, piazza del mercato, inaugurazione con la presentazione di un prodotto del laboratorio dei sapori Una struttura pubblica, finanziata in parte con fondi europei, gestita dalla Soprip Spa, strade dal fungo e parte con un mutuo del comune di Berceto Una struttura pubblica che dovrà essere gestita da una società di servizi privata che si farà carico dell'organizzazione per presentare prodotti, farli conoscere alla stampa specializzata, agli eventuali acquirenti ed al grande pubblico Alle ore 18 presso Villa Berceto, a pochi metri del laboratorio dei sapori Incontro con l'assessore alla piena occupazione e formazione professionale di Berceto Irene Pivetti, già presidente della Camera Per illustrare il suo progetto e le azioni intraprese in Cina, Shanghai, con l'azione di Only Italia In favore dei piccoli artigiani e produttori d'eccellenza Segue un piccolo spuntino nei locali della prestigiosa Villa Berceto In favore dei piccoli artigiani e produttori di Berceto In favore dei piccoli artigiani e produttori di Berceto In favore dei piccoli artigiani e produttori di Berceto In favore dei piccoli artigiani e produttori di Berceto Grazie a tutti.